Ciao Stefano, perché sceglieresti Vitamix come regalo di Natale? Sicuramente perché è il frullatore più potente che c'è attualmente sul mercato, è un power blender, un frullatore che ci permette di preparare qualsiasi cosa, sia la mattina a colazione, sia per un pranzo veloce, sia per una vellutata calda serale, adesso è arrivato il freddo, i motivi sono tantissimi e in pochi minuti è difficile da chiusurli. Sicuramente per i 10 anni di grazia del motore, sicuramente per le lame che mi permettono di micronizzare qualsiasi ingrediente e quindi di avere una texture perfetta sul palato, la facilità di utilizzo. Tu lo usi? Io lo uso, io personalmente a casa ce l'ho, quindi sono soddisfatto di quello che ho io. E quindi se ci serve un aiuto possiamo chiedere info a te? Assolutamente, potete rivolgervi a me e vi aiuto a trovare... Ci basta così per stasera. Grazie. Un saluto. Ciao.